È tornato dopo tanti anni in paese e ha pensato di mettersi a disposizione della comunità. La proposta di Alfredo Di Fiore, 67 anni, è stata accolta con entusiasmo dal sindaco Luigi Barbieri e dall'amministrazione comunale. Si è offerto volontario per la gestione della biblioteca di San Giuliano di Puglia, aperta nel centro storico del paese. Un modo per essere utili agli altri, impiegare il tempo libero e mostrare anche tanta sensibilità e amore per la cultura e la storia del territorio. È una cosa che avevo già fatto a Reggio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, a San Martino in Rio. Io sono stato volontario dell'Hauser a servizio di un corso che doveva agevolare gli anziani a usare il computer. Arrivato a San Giuliano, visto che la biblioteca era sempre chiusa, ho pensato di chiedere al sindaco di aprire la biblioteca e poi eventualmente di fare un servizio di assistenza agli anziani o ai giovani. Per Alfredo Di Fiore, che ha curato anche il volume dalla malattia all'invalidità, a quali diritti, si tratta di un'esperienza significativa. Nei locali sono presenti anche delle postazioni con collegamento internet. È un servizio a tutti i cittadini di San Giuliano perché si vede che c'è poco, poco attività. Allora è uno stimolo per invogliare la gente a partecipare, a fare qualcosa. Un contributo di impegno volontario in un paese oggi ricostruito dopo la difficile esperienza del terremoto del 2002. È uno spazio dedicato a persone di tutte le età. È stato tornare alle origini, alle mie origini perché sono nato a San Giuliano, sono stato fuori 46 anni. Sono tornato e voglio essere utile a qualcuno.